Questa mattina i carabinieri del comando provinciale di Napoli, in esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cartolari personali emesse dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli, hanno proceduto l'arresto di 11 persone, 9 tradotte in carcere, 2 gli arresti domiciliari e dalla sottoposizione all'obbligo di presentazione all'APG di un'altra persona, poiché ritenute gravemente iniziate dei delitti di associazione di tipo mafioso, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, di detenzione e vendita di sostanze stupefacenti, di tentato omicidio e di porto abusivo di armi. Delitti tutti commessi al fine di agevolare gli scopi criminali del gruppo camolistico facente capo alla famiglia Cutolo, radicato ed operante nel rione Traiano nell'area occidentale della città di Napoli. Il provvenimento cautelare è stato messo all'esito di una complessa attività di indagine eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo della Compagnia di Napoli Bagnoli e coordinata dalla DDA della Procura della Repubblica di Napoli, che si inquadra in una più ampia strategia di contrasto ai gruppi camoristici operanti nell'area fraegrea, sotto influenza dello storico cartello della criminalità organizzata denominato Alleanza di Secondigliano. I dati probatori a sostegno delle missioni dell'ordinanza cautelare hanno permesso di ricostruire l'esistenza e l'operatività del gruppo camoristico capeggiato da Carragennaro Cutolo Vincenzo, figlio di Salvatore e di Ostinato Giuseppina e di Pietro Luongo Francesco nell'area territoriale del rione Traiano, facendo luce sulle dinamiche e sulle finalità associative, traffico di stupefacenti e distorsioni, nonché sulle modalità di gestione della cassa comune, funzionale anche a mantenimento degli affiliati detenuti e dei loro familiari. In particolare è stato ricostruito un consolidato sistema di approvvigionamento e smistamento di sostanze stupefacenti, che attraverso la gestione delle piazze di spaccio ubicate nel rione Traiano permettiva di commercializzare al dettaglio ingenti quantitativi di droga, cocaina, marijuana e hashish. Il provvedimento cautelare inoltre prende in esame gli elementi di prova raccolti a fondamento della responsabilità degli indagati, in tranne al predetto gruppo camoristico per il tentativo di uccidere Minichini Francesco, in quanto appartenente all'avverso gruppo criminale facente capo a Marfella Giuseppe, da inquadrarsi nell'ambito della contrapposizione armata tra le due organizzazioni camoristiche per il controllo delle attività illecite nel rione Traiano. Tra gli indagati tratti in arresto vi sono Mazzaccarlo Giuseppe, e l'evento di vertice del gruppo camoristico facente capo alla famiglia Soria Agnello, quale fornitore di sostanza stupefacente attivo nel rione Traiano. Ostinato Giuseppina, conge di Cutolo Salvatore, capo storico di indiscusso del gruppo Cutolo e Calone Antonio, detto Tonino di Posillipo, affiliatosi con un ruolo apicale al gruppo riferibile alla famiglia Cutolo, pur conservato e controllo criminale del quartiere di Posillipo.